Io ho dei progetti per quel ragazzo, dottor Mike, che se lo rimette in piedi, Grace e io lo prenderemo con noi e lo adotteremo legalmente. Tu vuoi adottarlo? Oh, Robert, smettila di illuderti. Grace, diglielo, Michela. Diglielo che quel ragazzo non avrà mai un futuro. Grace, non lo sappiamo ancora. Oh, certo. Tu non lo sai ancora. Tutta la tua istruzione e i tuoi libri non servono a niente. Non sai se quella creatura vivrà o morirà. Ma io sì. Io so che Anthony mi verrà strappato esattamente come mi fu strappato quel piccolo bambino, Cheyenne. Mamma, corri, presto! Da quanto tempo è così? Stavo leggendo e lui ha cominciato a lamentarsi. Brian, per favore, chiama con te. Subito. La milza è notevolmente ingrossata. Si può fare qualcosa? Si può asportare? Può vivere anche senza milza, ma... No, invece. L'hai detto anche tu che non sei sicura di che cosa abbia. Potresti uccidere. Per te se non lo operiamo? No, Robert, no! Dottor Mike deve tentare. Ecco l'inizio. È grossa quasi il doppio del normale. Già. gua... Dottor... Dottor Mike Novità. Spero vada tutto bene. Già. Allora, ciao. Aspetta. Grazie. Cosa stai facendo? Stai tra l'occhio. Riuscirai a fare da padre e da padre, ragazzo. È quello che voglio credere, Sally. Ciao.